in questa chitarra 12 corde offner il truss rod è spezzato in questo modo Grazie. 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 Il retro del manico è stato riverniciato e per fare questo colore ho usato tre pigmenti, il giallo, ciliegio e noce. Adesso verifichiamo il buon funzionamento del truss rod. La chitarra ha un'accordatura sommaria, quindi sta in tensione il manico. Vediamo la riga come risponde. Vedi che la riga non ha nessun movimento, quindi il manico è quasi dritto. Vado a tirare un po' il truss rod e un doppia azione abbiamo messo. Facciamo quasi mezzo giro. Vedete che la riga ha questo bascolamento, quindi vuol dire che riesce a contrastare la tensione delle corde.